Pasta cremosa con pancetta e pomodoro. Vediamo insieme come preparare. Per prima cosa sciogliere il burro in una casseruola. Aggiungiamo la cipolla affettata e rosolare. Mettiamo la pancetta affumicata che gli dà più sapore e quindi mescolare. Nel frattempo cuciniamo anche la pasta. La mia prevede 10 minuti di cottura, quindi è perfetta. Sfumiamo con del vino bianco e poi aggiungiamo tutta la passata di pomodoro. Mescoliamo e poi aggiustiamo anche di sale. Ovviamente cucinate il tutto con un coperchio, altrimenti schizza tutto il pomodoro. Poi mettiamo anche la Philadelphia, formaggio spalmabile. Mescoliamo ancora, scoliamo la pasta e quindi trasferite nel condimento. Ancora una bella mescolata e come potete vedere questo è il risultato finale. Buonissima, consigliatissima.